Finissi in parità, una unica foto tra Morciano e Nova Fetti, un risultato che lascia più rimpianti alla squadra ospite in superiorità numerica per mezz'ora di gioco. Sono i gialloblu allenati da Achille Fabri a sferrare per i primi gol al minuto 12, punizione di Fravori dalla sinistra, Francesco Baldinini a due passi da Ostolani riesce a colpire il palo di testa ma il palo frena la gioia dell'attaccante gialloblu. Nova Fetti è ancora pericoloso calcio piazzato, 18esimo, Fravori calcia sul secondo palo, un impallo favorisce Radici che in girata colpisce il palo esterno. Primo tempo agonisticamente combattuto, il Morciano prova ad aumentare la pressione nella seconda parte di frazione ma rischia al minuto 44, ancora punizione di Fravori dal centrocampo, la palla di Venaria e un tocco di testa favorisce Francesco Baldinini che gira di destro da posizione ravvicinata. Il tiro è sporco, non è particolarmente potente ma Ostolani deve comunque compiere un baldo sulla sua sinistra per salvare il risultato. Nella ripresa di Nova Fetti a passi vantaggio al minuto 56, corre di Fravori dalla sinistra, Ostolani è bravo scendipugno ma sulla respinta a 25 metri arriva Federico Baldinini. Il tiro viene sporcato e corretto di tacco da Francesco Baldinini che conferma il suo grande opportunismo sotto porta. È il secondo gol di tacco dell'attaccante ex-amiglianese Pietracuta in questo campionato dopo quello rifilato a Colonnella nella prima giornata di questo torneo. A complicare la ricerca del pareggio in Casamorciano il sacrosato cartellino rosso fischiato è ingrosso che lascia così anzitempo il terreno di gioco. Amadori con i cambi cerca di cambiare l'inezza della partita e il pari arriva all'ottantatresimo. Sul risviluppo di una punizione abbatuta da Ottaviani l'arbitro fischia un rigore per farlo di Farabegoli e dal discreto Rotondi supera Semprini non facendosi pregare. Ristabilito l'equilibrio in campo nel finale di Nova Fertia cerca comunque di arrivare al gol. Vanni sono i tentativi prima di ammantire di Fraboni da fuori aria. Un pareggio che va strettissimo a Nova Fertia considerando le tante occasioni da rete create e soprattutto i due legni colpiti.